Di solito i fuochi artificiali concludono una sagra, una manifestazione, una festa, sono alla fine. Invece i dirigenti del Milan hanno cambiato la tradizione, hanno cominciato la campagna rafforzamento, il calciomercato, in sintesi, con i fuochi artificiali. Prima Zlatan Ibrahimovic la firma qualche giorno fa, la conferma un altro anno con il Milan del leader tecnico morale della squadra. Ma il fuoco artificiale che nessuno si aspettava è stato quello di Sandro Tonali, che firmerà nei prossimi giorni dopo le visite mediche. Ebbene, Sandro Tonali non se l'aspettava nessuno e io meno degli altri, perché mi ero informato e mi era sempre stato ventilata come ipotesi, non dico impossibile, ma molto, perché nel molto improbabile. Anzi, mi avevano detto praticamente no. Quindi, anche parlando con gli amici, avevo sempre detto, no Tonali, quando vediamo quelle cifre, 30-35, dimentichiamole, il Milan ha altri budget, altre filosofie. Poi, oltretutto, Sandro Tonali sembrava veramente vicino all'Inter, o perlomeno tutti lo davano come futuro giocatore dell'Inter. Poi, un certo rallentamento, o meglio, non ha approfondito, non ha continuato nel suo tentativo ancora in maniera ancora più forte l'Inter. E i primi colloqui con di Cellino, di Maldini, Paolo Maldini, e dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini sempre con l'avallo della proprietà, con Cellino. Questo corteggiamento Cellino che non avrebbe voluto accettare il diritto di riscatto, ma l'obbligo, il Milan ha fatto capire che se come obbligo, come prestito oneroso si parte da 10 milioni, è chiaro che poi il Milan lo prenderà, con i 15 più bonus. Insomma, siamo andati verso le cifre che Cellino pretendeva. La trattativa è andata avanti, sempre rafforzata dalla voglia di Sandro Tonali di venire al Milan. Vecchio cuore rosso-nero ha sempre insistito e anche Cellino l'ha ammesso. La volontà del giocatore è stato un viatico formidabile per la mia trattativa. E finalmente, quasi nella soddisfazione e nell'entusiasmo dei tifosi è arrivato Sandro Tonali. Cosa significa Sandro Tonali al Milan? Sul piano tecnico, il miglioramento della Rosa a livello tecnico, perché il giocatore ha ampie qualità, un giocatore che coniuga la grinta, la ferocia nel recupero, difficile togliergli il pallone, nella delizia del passaggio. Sul piano tattico, perché può alternarsi con Benasser davanti alla difesa, tutti e due non sono dei registi puri. Quando si parla di Tonali Pirlo non si è proprio nella diciamo così, nell'accezione più giusta. E possono alternarsi Benasser con appunto Tonali in cabina di regia, ma anche come frangiflutti degli attacchi avversari. Sul piano ambientale, perché ha caricato, molti vogliono paragonare, magari un po' azzardato, l'acquisto di Donadoni, il primo acquisto grande di Silvio Berlusconi con questo, perché è stato soffiato alla Juventus allora e questo sembrava dell'Inter e invece viene al Milan. Poi anche sul piano dell'esempio, tanti giovani adesso, abbiamo parlato di un chiesa, abbiamo detto che anche questo sembra impossibile l'arrivo, ma lui ha indicato già il Milan come fra le preferenze, perché questo Tonali che arriva al Milan conferma una strategia dei dirigenti che vogliono certo un mix tra giovani e esperti, che è l'ideale per poter costruire ma anche raccogliere risultati. Quindi tanti motivi importanti per l'arrivo di Tonali. Concludo con l'arrivo di un altro giocatore importante, Ebrahim Dias, arrivato a Milano, tampone, visite mediche come per tutti gli altri giocatori. Un giocatore dal talento purissimo, che colma la lacuna lasciata da Jack Buonaventura, può occupare i tre ruoli dietro Ibrahimovic, cioè come c'è la Noglu al centro, Castigliego a destra e Rebici a sinistra. Giocatore d'utile dal talento purissimo, in prestito secco, ma gentleman agreement tra il Milan e Real Madrid, due società amiche. Capiranno l'evoluzione tecnico-tattica e di personalità del giocatore, poi cercheranno una soluzione per il prossimo anno. Quindi un altro acquisto molto interessante per questo Milan, che ha deciso di lanciare i fuochi artificiali, non alla fine della festa, ma all'inizio.